ok dice che è live datemi conferma adesso la risposta appena saremo live diventa tipo quella pubblicità di facile.it I'm live ok siamo live we are live ok ci siamo Rob ci siamo ok sto soltanto disattivando il bluetooth dal computer e mi collego col bluetooth qui al telefonino e dopo questo piccolo problemino tecnico malevetto datemi il tempo vi voglio bene tranquillo tranquillo questo è il bello della diretta no? alla fine esatto programmi programmi è il bello della diretta no? alla fine buonasera Andrea Bruno buonasera Andrea abbiamo qualche problema di connessione la mia voce è in bomba mi sento un prete sì aspetta Rob come si è messo? c'è eccoci mi sentite? ti sentiamo ok sto provando a collegarmi alle cuffie ce la possiamo fare? forse sì forse ci siamo ci siamo? sentite? sì 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 ti sentiamo ci siamo ci siamo? ma lui non c'è fare il ciuffo arancione gli diventa tipo viola sì penso anche io dai Rob su riprendi il tutto riprendi il comando altrimenti toccherà a Serena guidare la nave diventa un problema diventa un problema serio insomma chi ci sta seguendo che ci che si faccia sentire una volta tanto con un like un commento come ha fatto Andrea così intanto iniziamo a capire che siete belli attivi altrimenti se non siete attivi non partiamo anche perché così da remoto noi non riusciamo a vedere niente cioè siamo online ma il comando ce l'ha Roberto della nave di conseguenza noi non riusciamo a vedere assolutamente niente né a parte i vostri commenti ecco non possiamo vedere ecco ciao Davide ciao Antonio raccontateci qualcosa voi a questo punto perché comunque la puntata merita ecco abbiamo in serbo una serie di argomenti non da poco sì sì anche molto interessanti esatto abbiate un attimino di pazienza che riprendiamo un attimino la situazione in mano ecco Rob io non ce la faccio io prendo tutto io distruggo tutto distruggo computer telefonini non so cosa combino dai 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 che ce la possiamo fare Rob iniziamo e non perdiamo altro tempo su che abbiamo gli aspettatori caldi va bene dai vediamo un po' io approfitto di questa breve momento di lucidità di internet per mandare questo in onda di lucidità Buonasera a tutti, mi sentite adesso? Ti sentiamo Grande, speriamo che regga, non mi toccano, non mi muovo proprio Ok, rimando immobile, immobile Buonasera a tutti gli amici che ci seguono, sono le 21.40 Siamo 10 minuti di ritardo Sicuramente proprio di qualcuno avrà digerito nel frattempo Va bene, meno se non l'avete cenato alle 8 Comunque ben ritrovati ad una nuova puntata Del manifesto optometrico Questo è un orario più comodo per tutti Naturalmente oggi partiamo con questo Poi vi spiego cos'è È un cuoricino fatto in lana con una cicatrice E vedete, questo è il simbolo di un'associazione di Manduria Si chiama cicatrici Diciamo che è un'associazione che si occupa di un tema molto importante Che è la giornata di oggi Che è proprio il tema sulla violenza E violenza sulle donne Ok Non perdiamo molto tempo perché non dobbiamo Ti sentite Sì, sì, ti sentiamo Non dobbiamo parlare di questo Però era un modo carino per iniziare Per ricordare che oggi è la giornata mondiale Per violenza sulle donne Va bene? Mi nascondo dietro il cuoricino E saluto gli amici cicatrici di Manduria Poi magari dopo gli dico che c'è Manco gli ho avvisati, pensate Però ci tenevano L'anno scorso è stato in vetrina il negozio Per una cosa carina Va bene? Detto ciò Intanto la seconda connessione è saltata Spero che non salti pure questa Io saluto tutti Saluto sempre gli amici di Gita Perena di Lucca Tania E John Knight di Torri Bolzano Ciao ragazzi Ciao Rob Buonasera, ciao Rob Parliamo oggi di un tema molto importante Molto importante E non vogliamo nemmeno essere troppo Gli assuntivi lo saremo un palino per il tempo Ma non saremo superficiali Perché ci riflettevo su questa cosa In macchina Mentre l'intervista È stato Un anno un po' particolare Anzi un vienio un po' particolare Che a breve diventerà un vienio un po' particolare Dove la percezione del tempo Se ne è andata un po' per i fatti suoi Se dovessi pensare al 2020 Non riuscirei a distinguerlo da questo 2021 E non so il 2022 che aspetto avrà Quindi parliamo di quasi un vienio Di tante cose Emozioni Protocolli di lavoro cambiati Rivoluzionati E adattati È quello che abbiamo In questo momento E quello che abbiamo in questo momento Purtroppo È un maledetto coronavirus Che un po' Ci stropiccia E ci strapazza Non c'è una cosa più bella Che affrontare il tema in maniera interdisciplinare Quindi guardandoci sempre oltre Guardando oltre il nostro nasino E capire anche cosa Gli altri amici delle altre discipline Hanno incontrato Hanno visto Cosa hanno fatto Nella loro pratica clinica In questi ultimi due anni O cosa vorranno fare Nel prossimo anno Io spero che Ci sia un po' La situazione un po' Un po' differente Però Da quello che Si legge E da quello che si ascolta La situazione è un po' Voi cosa ne pensate È qualcosa con cui Dobbiamo continuare a fare Un po' i conti Quindi Nulla di definitivamente passato Però Prendiamo le giuste Contromisure Dai Ci sono tanti aspetti Che Vanno a cambiare Il nostro Protocollo lavorativo Non solo in termini Di sicurezza Ma anche e soprattutto Secondo me In termini Proprio di Di analisi Di anamnesi Si sono viste Tante cose nuove Che pensavamo Non poter vedere In determinati utenti Perché Davamo per scontato Che Non avessero più Determinate abilità O non avessero Più Diciamo Determinate capacità I loro sistemi In generale Invece Abbiamo riscoperto Secondo me Che il sistema È sempre pronto Lì ad agire Come meglio ci serve Come meglio può fare A seconda delle nostre esigenze I nostri giorni Dal punto di vista Dell'optometria Probabilmente Quello che possiamo dire Oggi in mezz'ora Non è tutto Però Potrà essere la prima Di una Una prima puntata Di una lunga serie Il topic È importante Covid e postura Più interdisciplinare Di questo Non si può Giusto? Assolutamente Potrebbe anche Essere Poi direi proprio La palla al balzo Per presentarvi Due Care amiche Due osteopati Puro sangue In live Buonasera A Manuela Buonasera Ciao Buonasera 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 Specialiste Collaborano Vero collaborate Sì Ci capita di collaborare Specialmente I fini della didattica Perché entrambe Siamo con un piede Dentro la scuola E un altro In giro Appunto Per Per evitare A fare gli osteopati È il terzo Dentro lo studio Dentro casa Sicuramente Avete Tanto capitale Umano Tra le mani Per cui Avete visto Tante belle cose In questi due anni Presumo Giusto? In quest'ultimo anno Più che altro Visto che Negli scorsi anni Abbiamo lavorato Penso come Tutti gli altri Boco e niente Però Nell'ultimo anno Sì Si sono viste A molte belle cose Sì Tra cui Appunto Quello che è L'argomento di oggi Che è il covid E Ovviamente Strettamente correlato Anche alla postura Oltre che con la postura Però c'è tanto da dire Per quanto riguarda L'aspetto umano Delle persone Perché di fatto Covid Per quanto riguarda La sua virulenza Si è attaccato Determinate persone Ma ha toccato Un po' tutti E di fatto Lascia un segno È necessario Che questo Accada La nostra parte Profondamente umana Viene A suo modo Resionata Da quello che è Un lungo periodo Che forse Ci ha fatto sfogliare Sì come era la vita Qualche tempo fa Qual era la normalità Ma non la viera Che questa normalità Tra qualche tempo Speriamo presto Possa essere ricostituita Magari nuova La domanda Che nasce spontanea In questo momento Avete per caso Cambiato Il vostro modo Di lavorare Di approccio Alla persona Assolutamente Sì Abbiamo dovuto Prendere Delle precauzioni Come tutti E Grande mascherine Misere Camici Vabbè Tutto il materiale Diciamo Che una volta Era impensabile Utilizzare Soprattutto per noi Che siamo abituate A lavorare Principalmente Con le mani La nostra È una terapia Di primo contatto E forse Questa è stata La nostra fortuna Io ne parlo spesso Con i miei pazienti Ho avuto la fortuna Di poter toccare Ancora le persone È una cosa Che Diciamo Comunemente Non è stato possibile Non è ancora possibile Noi abbiamo avuto La fortuna Di poterlo fare Anche in quei periodi In là Insomma Con tutto il bello E il brutto Che Con questo contatto Hanno portato Sì Se si considera Poi proprio Tutta l'organizzazione Proprio degli appuntamenti E c'è La disinvestazione Nella sala Esatto Quindi lavorare Molto più a rileggio Rispetto a prima Quindi abituarsi A quelli che sono Dei ritmi Molto più lenti Rispetto a quelli A cui eravamo Abituate Pre-Covid Ecco Durante la vostra pratica Sia in fase Di valutazione Che di trattamento Avete notato Qualcosa di specifico Ripetitivo Dei pazienti Sempre in relazione A quest'ultimo periodo A quello che è stato Assolutamente sì Almeno per quanto riguarda La mia pratica personale Lo stato di stress Delle persone Come è stato inteso Di malessere globale Oltre che quello legato Alla disfunzione osseopatica Settamente a sé Era tanto Infatti si parlavano Di questi atteggiamenti Di chiusura Rivolti verso 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 lo sterno Verso il diaframma Questi rappresentano E manifestano Quello che è Uno stato di disagio Proprio psichico Perché poi o non puoi Anche la persona Che arriva in studio Per una sorta Alla capiglia Va a finire Per parlare Di questo elemento E di quanta frustrazione Questo elemento Genere in sé Quindi tutte Una serie di disfunzioni Legate anche al diaframma Legate anche ad altre strutture Correlate alle emozioni Senza considerare Che proprio Almeno parlo Per la mia pratica Quello che mi è capitato Alla mia studio Molti pazienti Ho avuto molti pazienti Che hanno avuto il covid Diciamo Negli ultimi due anni A chi è capitato Di averlo Un anno prima Sei mesi prima Di venire da me E ho notato Abbastanza Frequentemente Che tutti Erano appunto Ecco bloccati Tutta la parte superiore Delle spalle Quindi tendevano A chiudersi molto in avanti Causando anche Delle rigidità Sulla colonna La parte Diciamo Quella più alta Quella toracica E quindi Andando a Influenzare Quella che è Tutta la postura Del soggetto Del paziente In questo caso Tra l'altro Recentemente Anche se Clicchiamo Sul pagina Di medicina Vediamo Parlare Di sindrome Infiammatoria Multisistemica Ne leggevamo Qualcosa Qualche Qualche ora fa Praticamente Perché è una sindrome Che affatica Tutto quanto Il sistema E poi non vuoi Anche questo Porta di mal Adattamenti Perché è un sistema Stanco Che non riesce A reagire E di conseguenza Correlasse Tutta una serie Di adattamenti Posturali Che sono altrettanto Disfunzionali Ok Serena e Giovanni Nel frattempo Avete maturato Delle domande Delle osservazioni Da rivolgere Alle nostre Lighe Tanto Sicuramente Sicuramente Molto Molto Interessante Per quella Che è la loro Esperienza Parlavano Prima Diciamo Di Problematiche Per la parte Del Tratto Toracico Alto Ma Quante Ne avete Riscontrate Poi Del tratto Cervicale Che per noi Magari È molto Interessante In quanto È sicuramente Molto Collegabile Al sistema Visivo Consideriamo Che il tratto Cervicale Già nella norma È un tratto Che subisce Degli adattamenti Puoi per il lavoro Puoi per La presenza Di occhiali O apparecchi dentari Puoi per mille Motivi In questo caso Specifico Quando ci troviamo A trattare Con problematiche Dello stretto Toracico Superiore Allora 28% dei casi C'è un coinvolgimento Anche Cervicale Puoi capire Se è dovuto All'adattamento Posturale Che va a influenzare Appunto La fisiologia Della cervicale O capire O capire Se è effettivamente Poi La malattia Il covid Che causa Anche il blocco Sulla cervicale Noi dobbiamo Controverare Il fatto Che tutto Il pacchetto Viscerale Dal punto di vista Neurologico E di anatomia Risiede Sulla loggia del collo La loggia del collo È nella porzione Anteriore Del tratto cervicale Quindi È chiaro Che ci siano Delle correlazioni Che sono viscero Somatico Somato viscerale Quindi Dipendendo dal viscere O dall'osso Propriamente detto Fa la differenza Poi nel trattamento E l'incisività Del trattamento stesso Quindi sì La cervicale È assolutamente coinvolta Anche in questi In queste situazioni Direttamente O indirettamente Che sia Nei miei casi È stato indirettamente Comunque Quindi Confermo Confermo anch'io O meno che Per quella porzione Di popolazione Magari un po' più avanti Di collegare Presenza di osteofili Di popolazione Una situazione Già bene Innessata Un discorso È un altro discorso Ok È interessante Anche la parte Scusa La parte correlata Invece Al diaframma E quindi sostanzialmente A quella chiusura Che ha più Un aspetto Diciamo Correlato Alle emozioni Che può essere L'emozione Solo Della preoccupazione Inerente Alla salute Fisica Quindi per chi Ha preso Il covid Chi ha contratto Il covid Ma anche Semplicemente Solo la situazione Che si vive Quotidianamente No Basta Il fatto Che per Subire Un abbassamento Delle difese immunitarie Basta provare paura E di conseguenza Capiamo bene Che la paura È stato il sentimento Manifestato Con l'ansia Perché l'ansia Manifesta Una paura E' stato Quello più provato Negli ultimi Negli ultimi Periodi Senza togliere Il fatto Che un mal funzionamento Un'infezione A livello Polmonare Pleurico Altera Inevitabilmente Quella che è la Biomeccanica Delle coste E del diaframma Stesso Sì sì Io tralasciavo Diciamo La parte Dei soggetti Affetti O comunque Che hanno Avuto Infezione Covid Ma proprio Il soggetto Magari che Non ha Non ha avuto Infezione Covid Ma Lo possiamo Strasonfermare Infatti Come Vi diceva All'inizio Vuoi o non vuoi Nonostante Non sia stato Mai infetto Il Covid Ce l'hai È così Sì Sono quelle Cicatrici Che Di fatto Siamo parlando Le onde elettromagnetiche Le onde elettromagnetiche Scambiano un messaggio Anche senza parlare Volendo Senza toccarci L'area che si respira È questa E ne subiamo il peso Quindi magari Anche adattandoci Con queste Posture Molto Sì Tu hai una domanda No no Ok No la domanda che volevo fare Se stavo parlando In modo Imprensibile Sì Sì Assolutamente Sì Assolutamente Sì Sì Basta pensare Queste persone In che condizione Di contrazione Generale Sono del corpo In tutte le sue Parti Quindi Beh Quando proviamo Paura Quello che viene a subire Un'alterazione È il sistema nervoso Autonomo Che si occupa Della regolazione Tutto ciò Volontario E di fatto Anche la contrazione Muscolare Volontaria Del trapezio Quindi questi muscoli Che stanno qui sopra Ci fa assumere Posture Più o meno Del genere Involontariamente O così E di conseguenza Pensiamo Per un tempo Prolungato Ma questo muscolo Che è in attivazione Senza la nostra volontà Lo stato impiammatorio Poi diventa alto La sessua muscolare Cambia Il soggetto Tante volte Neanche si accorge Di vivere In questa maniera E Alla fine Quando poi Vai lì e dici Guarda C'è un blocco In questa zona E ci metti le mani Aia mi fa male Ma perché Perché una vita Che vivi In questo stato di ansia Una vita Sono due anni In questo caso In questo stato di ansia Se posso permettermi Una nota positiva In tutto questo In questi due anni Di delito Almeno quello Che ho rilevato Io dai miei pazienti È il fatto Che tutta questa situazione Abbia portato Un interesse maggiore All'intero cessione Alla propria cessione Allo scoprire Le sensazioni del corpo Anche Definire meglio Un dolore Un fastidio Un problema Quindi facendo proprio Un viaggio Iniziare a capirsi Esatto Iniziare a capirsi Sia da un punto di vista Patologico stretto Sia da un punto di vista Somato Emozionale Sia dal punto di vista Della prevenzione Per noi che siamo Professionisti Della prevenzione Questo è un gol gigantesco Adesso Quindi è un'onda Che va a cavalcare Perché è fondamentale Prevenire Metterci le toppe dopo Insomma Fa svuotare Quello che è il bicchiere Della salute Mi piace definirlo così Quindi se noi agiamo Quando questo bicchiere E ancora un pochino Abbiamo bene Che il successo Sarà migliore La qualità della vita È migliore La vita è migliore Grandioso E come pensate Di terminare Questo 2021 Oppure se Adesso in maniera Un po' più larga Vi chiedo Avete progetti Per i vostri 2022 Ma vorremmo definirli Esatto Dovremmo definirli stasera Perché siamo in fase Di programmazione Ma poi ci faremo sapere Chiaramente Quello che è Ma scordato Va bene Va bene Siete state gentilissime Io vi ringrazio Non so se Serena o Giovanni Vogliono chiedere qualcosa Nello specifico Noi sarei ore A parlare con loro Quindi Sì Dovremmo fare Una riunione O un'altra serata Internosse Così ci mettiamo Noi Per il vostro Contributo Non resta che Rimanere sintonizzati Per fare qualche Altre live insieme Scegliere un tema Comune a noi Affrontarlo Da altri punti di vista Va bene D'accordo Siamo sempre disponibili Grazie a voi Per l'invito Ciao ragazzi Ciao grazie Ciao Grazie a voi Ciao Allora Vediamo qua E' sempre bello Potersi confrontare Con professionisti Che non hanno a che fare Diciamo Con il tuo settore Strettamente detto Diciamo così Perché comunque Secondo me E' una fonte di crescita Enorme Assolutamente sì E' bello E si rimane affascinati Devo essere onesto Questo è quello che Assolutamente Io sono curiosissima Quindi fare domande E adesso vi chiedo La massima attenzione Perché io naturalmente Sono l'uomo Dell'ultimo minuto Ho messo in croce Due amici Per dirci la loro Dal punto di vista Dal punto di vista Dal punto di vista Lavorativo Di ciò che è stato Questo Questo 2020 Barra 2021 Perché è vero Che qualcuno Si è fermato Ma però Il 2020 Per esempio La nostra categoria Bene o male E' riuscita A rimettere la marcia E a ripartire Ma giusto Se l'è tutto sommato Il 2020 Dopo maggio Maggio Giugno Insomma Si è ripartito Io Lascio la parola Perché mi date 30 secondi Per ricollegarmi E per dare Il videoclip Di una nostra Annika Ok Alla fine Sì Se non vuoi La nostra categoria È ripartita Niente Se vuoi Ti rubo di nuovo Perché c'è il videoclip pronto Allora però Scusa Non mi puoi dire Ti lascio la parola Ho chiesto Ad una mia amica Che si occupa Bene Tanto bene Di respirazione Cosa è accaduto Nella sua attività Parliamo Probabilmente Di Dottoressa Peralezza La chinesiologa E mando Il videoclip Vorrei poterti dire In 5 minuti Ma che ti devo dire In 5 minuti Ti posso dire poco Ti posso dire soltanto Che il recupero È molto lento Che le cause A posteriori del covid Non fanno altro Che creare Non solo Problematiche di tipo respiratorio Ma anche debolezza Mancanza di forza Mancanza di equilibrio Quindi le conseguenze Post covid Sono tantissime Quello che si fa Con la ginnastica adattata È un riequilibrio lento Con sicuramente Un approccio Sull'esercizio Della respirazione In prima battuta Ma piano piano Tutto ciò che riguarda La forma fisica Il recupero Lento È problematico Tanto più Se ci sono persone Con patologie pregresse Le problematiche Non sono solo Di tipo respiratoria Quello è il primo effetto Che L'utente Riscontra La fame d'aria In realtà C'è una spossatezza E una debolezza Su tutto l'organismo È che il recupero Rispetto ad altri soggetti Deve essere ancora più lento E ancora più misurato Attraverso una serie di valori Che non sono solo Quelli della frequenza cardiaca Ma anche Di un'attenta spirometria Che può essere fatta Prima di iniziare il percorso Esercizi mirati Di attività motoria Adattata Dopo una Trentina Quarantina di giorni A ricontrollare il tutto E a rimodulare L'esercizio fisico Si vede Siamo Si si La più Com'era Dall'altra parte Come si è vista? Si è vista bene Si è vista bene E Come Rob? Ascoltata bene Avete ascoltata bene Dico Si no no Si è ascoltata bene Si 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 è ascoltata bene E' stata bellissima La fame d'aria Si Bel concetto Altre volte che parla Vera Resti lì ad ascoltarla No? Vera Vera E' bella L'utilizzo Della È davvero interessante Perché giustamente Si tratta Però anche si misura Dove si può misurare Per avere un riscontro Poi lei Oltre ad essere una clinica E' una ricercatrice Nell'animo Naturalmente Trova tutti i metodi E modi per Quindi è importante Quell'aspetto Ed è Importante Quando parla di stanchezza Quante volte Quest'anno L'anno scorso Abbiamo sentito parlare Anche parlando tra gli amici Mamma che stanchezza Mamma che stanchezza Sarà la mascherina Sarà la mascherina Non riesco a respirare Poi sarà il vaccino Sarà Non si capisce Ma che cos'è Comunque Alcuni elementi di base Tant'è Lei L'ha eviscerato In questi due minuti E partiva con la live Dicendo con la live Con la registrazione Io in cinque minuti Cosa ti posso dire Naturalmente Stavate Dei contesti Molto Molto Importanti Ed è quello che dovremmo fare Dunque magari Cercare di Di metterci In moto Sicuramente Puoi lavorare Anche con gli esercizi Per la respirazione Puoi affidarci A un professionista Che ci può dare Gli strumenti Per una Rieducazione Di questi Non so Giovanni Sicuramente è meglio Sicuramente è meglio La respirazione è la base Di tutto Un soggetto Che non respira E che vive In apnea O che vive Con un senso Di costrizione Generale Non respira Non prende aria Di conseguenza Non riesce a lavorare Come dovrebbe E quanto detto davvero Si collega Strettamente A quanto espresso Prima Dalle amiche E torniamo sempre lì No? E' un continuum E in tutto ciò La visione Che c'entra Parte di Alessia Noi c'entriamo sempre Ma noi c'entriamo sempre Siamo come il prezzemolo Ci infiliamo Adesso io direi Di passare un pelino avanti E sono contento Di dare Di inviare Adesso faccio la parte Del regista Inviare Il contributo Di un nostro amico Fedelissimo Del manifesto Optometrico In qualità Di psicologo Ricordiamo che è anche Un telecenso Optometrista Anche Nino Martuglia Ed è pronti? Vado Prontissimi Cari colleghi e amici Intanto buonasera E grazie Roberto Che mi ha chiesto Questo intervento A livello psicologico Diciamo L'aspetto posturale Io lo considero Fondamentalmente Meno Preponderante Degli aspetti psicologici Puri Occupandomi Di disturbi Di apprendimento Non vi dico Quello che Sostanzialmente È avvenuto In questi due anni E sta avvenendo Tuttora Anche se Il nostro ordine Professionale Ha ampiamente E caldeggiato Una certa Attenzione A tutte queste cose Ma non siamo stati Ascoltati Però In effetti Posturalmente Sussistono Molte problematiche Collegate Soprattutto Agli aspetti Ambientali E relazionali Quelli ambientali Caratterizzato Soprattutto Da Un'effettiva Chiusura La DAD Ha manifestato Molte problematiche Alla Possibilità Di uscire E Socializzare Con i ragazzi Con i coetanei Alla Incapacità Poi Anche Di fare Attività fisica Tutto questo Ha determinato Effettivamente Un grosso problema Legato Anche In alcuni casi Un aumento Del peso Dei bambini Soprattutto Oltre che Degli adulti L'aspetto Poi Legato All'ansia Legato Anche Ad elementi Di paura Rivolgono Rivolgono Tutte le tensioni A livello Cervicale A livello Del diaframma A livello Dorsale E Questo Ovviamente Produce Di una cascata Di alterazioni Di alterazioni Sia Di natura Posturale Pura Si natura Un punto Visiva Che ovviamente Segue Tutto quanto L'organismo Di sicuro Bisogna Avemo ancora Tanta Strada Da fare Per poter Uscire Dagli effetti Non Virali Del covid Stesso E che Produrranno Sicuramente Degli effetti A lunga Scadenza Sulla popolazione E sulla salute Della popolazione Psicofisica Ovviamente Il ruolo Dello psicologo Il ruolo Dell'optometrista Il ruolo Di tutti I profesi Sanitari Che sono Collegati All'area Di intervento Della salute Del benessere Delle persone Devono essere Integrati Nella loro Funzione Nella loro Anche Nella loro Capacità Di interagire Per dare Priorità Di intervento Sì In effetti Sono tanti Problemi Che possono Che ci sono Andranno Sicuramente Pian piano Dipanando Man mano Che ovviamente Questa Pandemia E chi Comunica E sottolineo Comunica Di Questa Pandemia Si renderà Conto Di errori Che ha Fatto Noi Con Nostra Professione Potremmo Sicuramente Correggere Tutte le Formule Di Comunicazione Che sono State Fatte Finora E Comunicando Bene Tra di Noi Integrandoci Nelle nostre Professioni Contribueremo Sicuramente Meglio A ripristinare Queste Queste Condizioni Le Condizioni Le Persone Si Si Ma L'hai bloccato A un certo Punto No Finiva Forse Finiva dopo Qualche Secondo Ho fatto Un errore Di cambio Ok Però Comunque Mi chiamano E mi dà Assolutamente Sì Io ho preso Due appunti Perché la Tarino Pura riprende Insieme Parlato di Aspetti Ambientali E quelli Anche noi Abbiamo visto Dato Dato Cosa Fatta Perché poi Dato Dato Abbastanza Eterogeneo Dal bambino Che segue La lezione Allo smartphone Allo schermo Di 55 pollici Un metro e mezzo Di Però Grazie Ai potenti Mezzi Del Sistema Di Rilucazione Visiva Funzionale Riusciamo Più o meno A Dare Il nostro Contributo Positivo Dimmi Cara La mia serena Dimmi Dino Ha pronunciato Tre paroline Magiche Che Penso Che Nella quotidianità Ma oggi Ho un posto Di nulla Ma chi l'ha Con me Oggi Tre paroline Magiche Secondo me Nella nostra Quotidianità Nella nostra Prattica Clinica Facciamo i conti Praticamente Ormai Tutti i giorni Che sono appunto DAD Mi sono scritti Ho preso appunti Sono DAD Sono Attività Fisica Barra Socializzazione Sono stress Cioè Tre paroline Secondo me Che Nei nostri Protocolli Di anamnesi Non possono Mancare Fare un'indagine Su questi Tre elementi Perché Alla fine Sono quelli Che poi Diciamo così Ad impatto immediato Hanno avuto Un alto Tasso Di Correlazione A livello Visivo Non è che gli altri Non ce l'abbiano avuto Ma questi Forse sono stati I tre elementi Che a livello Visivo Hanno Dato Diciamo Il maggior Maggior Contributo Non so se Concordate Con quello Che dico Ecco Quelle due ore Di attività Fisica La person La radio No Adesso Sei ore Per recuperare Tutto quello Che Sei ore Al giorno Almeno Almeno Il fatto Di uscire Di portare C'era gente Che Scherzando Vedevo Dei post Su facebook No Con il cane Finto Con il cane Di peluche Per poter Uscire Di casa Il Il fatto Di poter Stare All'aria Aperta Sembra Qualcosa Che le persone Danno Assolutamente Per scontato No Ma poi Alla fine Veramente Ti serve Per staccare Per Rigenerarti Se non vuoi Se no Ragazzi L'avete chiusa Dentro Un 17 pollici Un 20 pollici Quando parla Invece Di frizia La scadenza Se il psicofisino Eh Quelli Mi fanno Un po' Paura Mi fanno Paura E poi A questo punto Penso anche Ai numeri Che Giovanni Ha in mente Ma cosa ne sarà Dei dati normativi Rivisti Ad oggi Non puoi Fagli questa domanda Andranno Andranno A peggiorare Ma sicuramente Gli effetti A lungo termine Saranno Cioè Lì ci sarà Da ridere Veramente Ci sarà Da ridere Veramente Perché molte volte Lo stress Non lo subisci Subito Ma Lo subisci Piano piano Tutti i giorni E poi Arriva a un certo punto Dove Papam Si vede Proprio Il cambio Nel tuo rispetto Rispetto al primo Così Un sistema visivo Così Un sistema visivo Che Diciamo Anche sotto stress Dopo un certo Numero di mesi Lo vedi ancora bene Poi Ad un certo punto Qualcosa cambia E ne rendi conto In maniera più evidente Quindi Effetti a lungo termine Sicuramente Quelli più devastanti Che se non fai Prevenzione Poi Non è detto Che sono recuperabili Di miei Io avrei già La seconda puntata Di questo topic Che sarebbe Anche il fattore alimentare Per esempio Eh ragazzi Quello è una cosa Secondo me Interessantissimo Io L'ho vissuto Sulla mia pelle Durante Il lockdown E Ragazzi Cioè Ti cambia Ti cambia Veramente la vita Assolutamente Ti segue Stress Uguale adattamento Al cambiamento Eh sì Cambiamento Che è importante Valutare No Poi Si è parlato Tanto di dad Si è parlato Tantissimo Di smart working Ma Come quando Magari facciamo Delle analisi visive E chiediamo Ma quali sono I tuoi hobby Quindi quando Quando ci concentriamo Su che cosa fai Oltre il lavoro Che cosa fai Oltre lo studio C'è stato Un grosso aumento Di Utenti Che hanno iniziato A Passare il proprio Tempo In Intrattenimento Con i dispositivi Digitali E quello Ovviamente È stato Tanto Carico di stress Visivo In più E poi Che ha avuto Influenza Anche sulla postura Perciò Anche quello È un elemento Fondamentale Leggevo un po' Di dati Ad esempio Nel periodo Del lockdown Era un quarto Della popolazione Che è impegnata Attivamente In Entertainment Poi però Quelle abitudini Che hai Consumato Per due mesi È difficile Staccarle Completamente Cioè c'è gente Che è impegnata Ancora oggi Nell'entertainment No? Nei videogiochi Nelle attività Digitali E quindi No Nei Nei periodi Vi ricordate L'anno scorso 2020 Pieno Quando Grandi Personaggi Illustri Dello sport Mondiale Vi sfidavano Sulla PlayStation Facciamo Le tornei E adesso Valentino Rossi Che avrà finito Il suo percorso Che adesso Continuerà Sulla PlayStation Indubito Di questa cosa Immaginati Immaginati Chi lo fa per lavoro Perché esistono Di e-sports E c'è chi Anziché fare Il calciatore Nella vita reale Insomma Lo fa Nella vita digitale Questo punto Si troverà avvantaggiato Beh sicuramente Sicuramente Si ha avvantaggiato Anche questo Poi in ultima battuta Senza Senza Cito Troppo Pensiamoci In punta di piedi La domanda che faccio a voi No? Che siete amici E colleghi E tutti gli altri Che ci seguono adesso E che ci seguiranno Le valutazioni Ottometriche Le si fa Le facciamo Con la mascherina O senza mascherina Che c'è questa domanda Domande Domande scomode Molto scomode Oppure Se facciamo con la mascherina Oppure Meglio ancora Se dopo si va a centrare Delle lenti Con la mascherina Magari con la molla Di un centimetro Sugli orecchie Cosa Cioè La soluzione ottica Che andremo ad assemblare È perfettamente centrata Nella base Delle abitudini Nuove Della persona Oppure una volta a casa Toglie la mascherina E vedrà Vedrà qualcos'altro Diciamo Essi sono i dubbi Quindi Quanto si è vincolati Anche lì Al rispetto Forzato Di alcune norme Difficile Quindi Pensate a un progressivo Ecco Un progressivo Sono aspetti Difficiti Sono aspetti Difficiti 3 mm 5 mm E più in alto La Anche di più Anche di più Quando ti arrivano Quelli con le triple Quadruple Mascherine Oltre alle cose Dietro le orecchie C'è la fascia Che gliela lega Perché così Non sa Naturalmente Poi Abbiamo letto L'articolo Della professoressa Boccardo Si parlava Di mascherina E superficie Per contatto Non so se Serena e Giovanni Hanno qualche Fin Nella loro Pratica Clinica E comunque Parliamo di Dentro E' Nello specifico Cosa è cambiato Lì Cosa cambierà Non è cambiato Niente Ma senti Io ti posso dire Che Qualcosa Secondo me È cambiato È vero Che c'è Uno studio Dietro Quindi Non possiamo Dire il contrario Di quello Che dice Uno studio Con la sola Pratica Clinica Che abbiamo Noi Che magari Non è Come campione Molto Ridotto Rispetto a Quello Sicuramente Del campione Che è stato Analizzato Io mi sono ritrovata Spesso a dover Cambiare Le lenti A dover Cambiare Il materiale A dover Cambiare Tante cose Alle volte E poi Scopri Perché 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 Ste mascherine Continuano a Buttare Aria Da sopra Quindi È come Se sono sotto Un condizionatore Per otto Nove ore Al giorno E Quindi Dire che non Ci è cambiato Niente Secondo me No Non è vero E Dal punto di vista 8K Per tutti In un certo punto Poi dopo Sì Quando puoi 8K Per tutti Cioè Io sono d'accordo In mettere la firma Per questa cosa qui E Dall'altra parte Quindi dal punto di vista Invece posturale Non lo so Quanto questa mascherina Effettivamente Possa cambiare Se è più Davvero Un fattore respiratorio Quindi Quest'aria Che in qualche modo No Viene Viene in qualche modo Espulsa In modo diverso O se invece È solo un fattore Psicologico No Il fatto che Ti trovi La bocca Tappata In qualche modo Visto poi Tutto Ritornando All'intrattenimento Online Tutte le informazioni Che trovi Online E quindi Di conseguenza Il campione Di informazione Che arriva All'utente È talmente vario Talmente vasto E non sempre Corretto Che in qualche modo Va a incidere L'aspetto psicologico Sul porto Della mascherina O comunque Su dispositivi In generale Quindi bocca Ritorniamo All'affermazione Di prima Di Manuele Federica Quando parlavano Anche di cervicalgia Di stretto Superiore Vi dico Brevemente La cosa semplice Quante volte Capita di avere Una FFP2 Con la molla Stretta Di fare orecchia La sventola E dopo due ore C'è un mal di testa Assolutamente Ora andiamo Ad analizzare Gli effetti Sulla postura E ti trovi E se Sembra che Stai spostando L'ossoioide Con la mascherina Il nuovo trattamento Ortodontico Parti Dalla Cambierà la posizione Dello stenoide Rispetto Tutto il resto Volevi trovarti Le orecchie Al posto Delle guance Benissimo Usa una mascherina FFP2 Allora Sul centratio Del progressivo Sul centratio Del progressivo Con la mascherina Girando diversi Negozi Trovi le soluzioni Più assurde Da parte Dei colleghi Quello che Ha il Videocentratore Quello che Non si fida Del videocentratore Allora Gli fa mettere La mascherina Un attimino Più bassa E va A puntare Con la penna Dove di tutto Oppure Ti puoi chiedere Guarda Se resisti Un minuto In apnea Ti regalo Una lente Però prendo La centratura Adesso Adesso Mi è venuto Il pallino Del fattore Dell'alimentazione Mannaggia La miseria Penso che la prossima Dobbiamo parlarne Perché È interessante Un sacco di amici Che si occupano Di quel settore Buono Non cattiamoci Perché stiamo Andando oltre Se non avete Null'altro Da aggiungere Cari miei amici Io come sempre Inmito Gli ospiti Che ci seguono Gli amici Che ci seguono E quelli Che ci seguiranno Perché tanto Abbiamo tutto Ben registrato Sulla pagina Del manifesto Autometrico Di iscriverci Se avete dubbio Oppure se avete D'osservazione Ricordando sempre Che questo è un momento Di scambio Di opinioni Niente a che fare Non didattica E quant'altro Ma è soltanto Un modo Per essere Quanto più vicini Anche se distanti In un momento Di ricrescita Professionale Anche Rivalutazione Dei 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 Guida I protocolli Di lavoro Ringrazio I compagni Della gita Come stai Super disponibile Quest'ora Adesso Penso che a Bolzano Sarà notte fonda Già No Un orario Ci sarà Allora Quelle parti Sarà pomeriggio Sì pomeriggio Sono le 22 Termina Questa Forse forse Se fosse proprio La ventesima Live Non avevo nemmeno festeggiato Ma non mi sembra Il caso Vi daremo Riferimenti Della nuova live Che è l'ultima Del 2021 Quindi Tra l'8 E il 20 Di dicembre Circa Sarà un momento Di svago Collettivo Non saremo Noiosi Come sempre Almeno Non saremo Noiosi Come Serena E Giovanni Ma probabilmente Saremo Come me Detto ciò Serena Giovanni Io vi saluto E appena Terminate Con il saluto Mando La Clip Di chiusura Ottimo Ragazzi Penso che ci vediamo Allora Alla prossima È stata Veramente Una live Interdisciplinare Molto Molto Bella E ricca Di contenuti Quindi Ci vediamo Ciao a tutti Ciao ragazzi Alla prossima È stato un piacere Ciao a tutti Ciao a tutti